Se conosci bene la storia della Bibbia, probabilmente avrai sentito che Gesù offre la vita eterna. Sembra una bella cosa, ma cosa intende esattamente Gesù per vita eterna? Beh, Gesù ha mutuato questa espressione dalle scritture ebraiche. In italiano viene tradotta con vita eterna, o a volte con vita infinita, ma tradotta in modo letterale dall'ebraico significa vita fino alla fine dell'età. Vita fino alla fine dell'età? Cosa significa esattamente? È un'espressione ricca di significato e per comprenderla pieno dobbiamo prima parlare di cosa si intende per età nella Bibbia. Ok, vediamo! La parola ebraica per età è olam e indica un periodo di tempo. Che periodo di tempo? Un periodo qualsiasi e può essere sia passato che nel futuro. Ciò che importa è che sia un periodo di tempo caratterizzato da alcuni attributi che rimangono costanti. Ad esempio? Ad esempio, tutto il periodo di tempo che va da Abramo e i suoi discendenti fino a Mosè è conosciuto come il periodo degli antenati di Mosè. Mosè può quindi dire ricordati dei giorni delle età antiche. Considera gli anni delle generazioni passate e i tuoi vecchi. Ok. Un'età può anche essere più breve e riguardare il futuro. Ad esempio, la vita di Samuele dedicata al servizio del tempio viene considerata da Anna come un'età. Quindi possiamo dire che un'età è un periodo di tempo che ha una caratteristica unica e costante. Esattamente. E ci possono essere vari tipi di età, a seconda della caratteristica su cui si pone l'attenzione. Proprio così. Infatti, se due età diverse si sovrappongono, è possibile vivere contemporaneamente in entrambe. Ok. Quindi, tornando all'espressione vita fino alla fine dell'età, a quale età si fa riferimento? All'inizio della storia biblica, gli esseri umani vengono creati dalla polvere della terra. Si tratta di un'immagine biblica che simboleggia la mortalità di tutte le creature, ossia il fatto che vivono in un'età in cui potrebbero morire. Dio però prende l'umanità e la pone in un giardino sacro, in cui viene invitata a sperimentare un modo di vivere nuovo e più profondo. Mangiando dall'albero della vita. Esatto. Ci viene detto che offre loro la vita fino alla fine dell'età. Una vita dal potenziale infinito in quanto connessa alla vita divina di Dio. Ma la storia ha una svolta inaspettata. E invece di accettare la vita fino alla fine dell'età, Adamo ed Eva mangiano dall'albero della conoscenza del bene e del male. Già, mangiare da quell'albero significa prendere la vita nelle mani e gestirla a modo proprio, lontano dalla sapienza di Dio. Per questo vengono esiliati dalla vita fino alla fine dell'età ed entrano nell'età della morte, dove finiscono a maltrattarsi a vicenda e ad agire esclusivamente per il proprio interesse. Le cose degenerano velocemente. Esatto. Quindi il resto della storia della Bibbia può essere inteso come la scelta tra due età diverse. L'età della vita vissuta a modo nostro e che porta alla morte, o l'età della vita di Dio. E nonostante l'umanità abbia rifiutato la sua vita, Dio promette di aprire una nuova via di ritorno. Esattamente. Ed è quella promessa che poi ci conduce alla storia di Gesù. Egli ci viene presentato come Dio fattosi uomo. Quindi in Lui sono compresenti entrambe le età. Vive allo stesso tempo nell'età della mortalità e della morte e nell'età della vita eterna. Quindi può offrire alle persone l'accesso alla vita fino alla fine dell'età. Esatto. Ed è ciò che Gesù dice nel Vangelo secondo Giovanni. Questa è la vita eterna. Che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Tuttavia, così come aveva rifiutato la vita di Dio nel giardino, l'umanità rifiutò anche Gesù, condannandola a morte. Ma la vita di Dio è più potente della morte. Gesù è risuscitato dai morti, così da poter offrire la vita di Dio agli altri. Il Vangelo secondo Giovanni, infatti, dice Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questa è la vita fino alla fine dell'età. Figo! La maggior parte delle persone pensa che la vita eterna sia qualcosa che accade dopo la morte. Ma nella Bibbia, l'accesso a questa età è qualcosa che si può avere fin da subito. Sì, ricordati infatti che Gesù è il punto d'incontro tra l'età della vita di Dio e l'età della morte. E questo significa che quando le persone si fidano di Lui, possono sperimentare fin da subito la vita eterna. Ma viviamo comunque nell'età della morte. Cosa succede quando muoio? Beh, così come la morte non poteva avere la meglio sulla vita eterna di Dio insita in Gesù, così noi possiamo essere vivi anche se siamo fisicamente morti. Nella Bibbia si indica questo concetto con l'espressione in Cristo. Non se ne parla molto, perché non è così che termina la storia biblica. La Bibbia si concentra sul momento in cui l'età della vita prevale completamente sull'età della morte. E coloro che vivono in Cristo vengono riportati in vita per condividere insieme la vita eterna di Dio. Esattamente, perché una vita che è completamente connessa alla vita e all'amore eterni di Dio è una vita che non avrà mai fine.